Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata al bilancio delle attività della Capitaneria di Porto di Gela. Gli uomini agli ordini del comandante Pietro Carosia hanno raggiunto diversi obiettivi. Sentiamo. Intense e proficue sono state le attività targate 2015 degli uomini della Capitaneria di Porto di Gela coordinati dal comandante Pietro Carosia. Un anno che ha visto i militari impegnati su diversi fronti e raggiungere molti obiettivi come spiega ai nostri microfoni lo stesso comandante. Il 2015 ormai è passato, ne approfitto intanto per fare i miei migliori auguri a tutti i cittadini di Gela. Abbiamo messo in campo noi della Capitaneria di Porto diversi progetti. In questi progetti devo dire che siamo stati, abbiamo avuto sempre vicino molte istituzioni, ma in particolar modo devo ringraziare sentitamente la Procura della Repubblica di Gela e in particolar modo il Procuratore Capo, la dottoressa Lucia Lotti e altrettanto devo dire per Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Cucinotta. Il mio primo obiettivo fin dal primo momento del mio insediamento è stato quello del Porto Rifugio. Porto Rifugio che sta vedendo finalmente una nuova luce. Ormai sono stati avviati tutti gli iter per quanto riguarda la caratterizzazione e il mio intendimento e grandissima speranza è che prima dell'estate i cittadini di Gela possano vedere finalmente iniziare i lavori nel nostro bel Porto Rifugio. Un altro traguardo che mi ero prefissato era quello di far uscire le camere COC sempre dal nostro Porto Rifugio. e entro giugno scadrà il termine ultimo perché debbano uscire dal Porto e quindi anche le camere COC dovrebbero lasciare la città di Gela. Un altro obiettivo importante è che mi sono prefisso riavviare la possibilità di far riprendere i lavori per lo smantellamento di tutti i rifiuti ferrosi che ci sono sulla diga forranea e questo permetterà anche a ditte autorizzate e quindi a operai, a famiglie di poter ritornare a percepire uno stipendio decente. Restiamo in tema di attività relative alla capitaneria di Porto. 120 kg di pesce congelato in cattivo stato di conservazione e 5 multe per complessivi 6.000 euro di sanzioni sono i numeri dei numerosi controlli effettuati dalla capitaneria di Porto non soltanto in ristoranti e pescherie ma anche in attività commerciali dell'entroterra nisseno nel periodo natalizio. Gli uomini coordinati dal comandante Pietro Caruzzi hanno passato al setaccio pescherie, grossisti, supermercati, venditori nei mercati rionali, i ristoranti riscontrando gravi violazioni. I controlli sono stati effettuati in maniera congiunta con il personale dell'Asle. Il sequestro è avvenuto in un supermercato gelese di cui non è stato fornito il nominativo. Le multe invece sono scattate per la mancata etichettatura del pescato e quindi per non avere permesso al consumatore finale di conoscere il tipo di prodotto acquistato e la sua provenienza. Ancora cronaca, i carabinieri di Gela stanno ricostruendo la dinamica di un incendio che si è verificato nella serata di ieri all'ex mattatoio comunale. I militari dell'arma hanno fermato tre cittadini di nazionalità romena che hanno precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e disoccupati. I tre avrebbero appiccato il fuoco ad una delle stanze dell'ex mattatoio dove viveva un altro romeno di 46 anni senza fissa dimora. Quest'ultimo ha raccontato che tre suoi connazionali avevano dato fuoco ad una stanza situata all'interno di uno dei capannoni insistenti nel perimetro dell'ex mattatoio in cui dimorava. L'uomo ha chiesto spiegazioni ma uno di loro attraverso una bomboletta spray usata come nebulizzatore di liquido infiammabile ed un accendino hanno tentato di appiccargli fuoco con una vampata. Il 46enne è scappato e ha fermato così una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona. I tre romeni sono stati denunciati per danneggiamento seguito da incendio. E' crollato ieri a Gela un palo dell'illuminazione pubblica al lungomare. Solo per una fortunata coincidenza non è accaduto nulla al momento del cedimento e infatti non c'erano auto in transito. Il rischio è stato comunque grosso sul posto. Sono intervenuti pochi minuti dopo gli addetti della Gelas che hanno messo in sicurezza la zona. Consigliere, di questi giorni una sua interrogazione è tra gli aspetti più rilevanti. Troviamo quello delle bonifiche. Le bonifiche io ho fatto un'interperlanza in base al regolamento al Presidente del Consiglio da inoltare al Signor Sindaco. Perché leggendo le carte e leggendo un po' notizie giornalistiche ci sono stati qualche dubbio di chi deve fare le bonifiche a Gela. Io non parlo solo delle bonifiche Eni, Traffineria, ma di tutte le bonifiche sul territorio. Per me le bonifiche vanno fatte chi inquina paga. Perché tra le carte che sto leggendo mi sorge qualche dubbio e quindi voglio che me lo chiedisca il Sindaco in aula. voglio sapere se queste bonifiche vengono fatte dall'ente che ha provocato il danno o dall'impresa che ha provocato il danno e quindi avremo una stabilità nel lavoro da parte dei lavoratori. Leggendo le carte mi sorge qualche dubbio che avremo l'affidamento diretto alle ditte che chiedono di avere queste aree e quindi andranno a bonificare le ditte terze non chi ha inquinato. Quindi questo dubbio chiedo al signor Sindaco che venga chiarito nell'interesse dei cittadini. Ripeto, e lo voglio ripetere, non è una ripetizione fatta perché mi voglio è una ripetizione fatta volutamente. Ai cittadini il messaggio che voglio lanciare che voglio sapere chi fa le bonifiche. Se le bonifiche le fa chi ha inquinato assicuriamo un lavoro stabile e duraturo. Se le bonifiche le fanno altre ditte che si insediano senza che l'aria l'ha bonificato chi ha inquinato mi sorge qualche dubbio nel tempo e nelle procedure lavorative. Consigliere, sostanzialmente l'obiettivo di questa sua conoscenza che appunto chiede dei chiarimenti sarebbe quello della stabilizzazione degli operai che si innesta poi in una crisi occupazionale davvero molto grave che sta vivendo questa città ormai da un po' di tempo. Sta vivendo una situazione, dire grave, è poco. Una situazione gravissima. Fare una passeggiata in piazza sta diventando quasi impossibile perché la gente non sa come vivere e come arrivare a fine giornata non a fine mese o più. Quindi io chiedo di sapere sulle bonifiche chiarezza, voglio chiarezza, da parte dell'amministrazione comunale che è l'ente che rappresenta i cittadini. Secondo lei l'attività relativa alle bonifiche potrebbe rappresentare una nuova speranza di lavoro per questa città? È una percentuale che sicuramente permetterà di immettere sul lavoro le nostre maestranze locale senza bisogno di fare bandi un po' particolari perché una ditta potrebbe partecipare, quello che capisco, perché può essere il sindaco che mi chiarisce diversamente, è quello che leggo dalle carte. Quindi io chi inguina paga, se lo fa l'eni è un conto, se lo fa l'altra ditta è un conto, se liberiamo tutti, liberi tutti, non è possibile. Caldaie e impianti di riscaldamento in attivazione per le scuole primarie e secondarie di primo grado a Gela. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Flavio Di Francesco, ha spiegato che nonostante questi giorni festivi il dirigente del settore Santi Nicoletti e Angelo Scudera dell'Ufficio Manutenzione ed Edilizia Scolastica si siano impegnati affinché la relativa gara pubblica potesse essere espletata nei tempi previsti per fornire il servizio agli alunni gelesi, oltre che al personale docente. Un'attenzione particolare che continueremo a rivolgere ai più piccoli, ha commentato ancora l'assessore, perché si possano svolgere le lezioni nel migliore dei modi. Cambiamo ancora argomento, dopo 36 anni di carriera va in pensione il vicecomandante della Polizia Municipale di Gela ai nostri microfoni il racconto di una vita in divisa. Sentiamo. 39 anni di onorato servizio a Gela, prima come vigilo urbano e poi pian piano la carriera in questi decenni. Se dovesse tracciare un bilancio di questi decenni, che bilancio sarebbe? Il bilancio è meraviglioso, perché io mi ricordo quando sono entrato a 23 anni, nel 77, ci siamo trovati delle forze fresche e una città tranquilla, una città che aveva i suoi lati, il ricostruzio dell'ambosia, il periodo proprio quando c'è fu il boom e lavoravamo fianco a fianco, diciamo, tutti noi giovani con gli anziani e con il cuore, veramente, perché abbiamo fatto un concorso che ci è piaciuto e ci siamo trovati con questa meravigliosa divisa in questa grande famiglia, tutti con il cuore in mano. Il benessere, diciamo, ha fatto maturare nelle persone quella indisciplinatezza, quella voglia di essere spregiudicati che si è evoluta proprio quando c'è stata la guerra di mafia che ci siamo trovati malamente, diciamo, qua a Gela e, diciamo, storditi da questa situazione. Niente, diciamo noi come quando possiamo ricipare quello era un periodo in cui andavamo scemando come personale e cercavamo ancora i nostri diritti come pubblica sicurezza. Paradossalmente eravate meno numericamente e però erano gli anni invece in cui serviva il controllo del territorio era davvero necessario. Eravamo, diciamo, non più gli 80 iniziali ma sulla 50 e però si aspettavano sempre i concorsi, si aspettavano certi diritti magari e ancora era il periodo in cui facevamo noi le lotte sindacali andando anche a Plermo per essere riconosciuti come... perché noi eravamo agenti in piazza allora. Adesso che lei è in pensione, da oggi che cosa farà? Adesso sarò un nonno a tutti gli effetti e quindi... e poi ho altri viaggetti da fare anche perché c'è mio figlio, il piccolo, che sta facendo il corso di Marciallo della Finanza all'Aquila e quindi sarò costretto, diciamo, per evitare di farlo scendere sempre di tanto in tanto saliremo io e mia moglie andando all'altra quindi sarò impegnato sotto questo punto di vista. E se dal comando dovessero chiamarla per qualche consiglio lei che cosa risponderà? No, io ho detto sempre ragazzi, a disposizione. Auguri. Grazie. La CGL di Gela, congiuntamente al sindacato dei pensionati della CGL, ha chiesto al sindaco e alla giunta comunale di prorogare i tempi per consentire a centinaia di cittadini anziani di poter presentare la domanda per usufruire del servizio di assistenza agli anziani con tutti i documenti richiesti, tra cui l'Isee, che ad oggi risulterebbe nullo poiché scadrebbe il 15 gennaio, mentre il bando scade il 16. La CGL in più occasioni ha sollecitato l'avvio dei servizi a benefici degli assistenti ma anche dei lavoratori che dal 1 ottobre hanno perso il lavoro. La CGL lo spicchiedono formalmente a 15 giorni di proroga così da consentire a chi ha i requisiti di presentare la domanda. Lo scrivono Ignazio Giudice e Piero Riela. Nasce a Gela una nuova realtà associativa che si occuperà di teatro ed arte. Il 16 gennaio prossimo è il debutto al Teatro Eschilo con una commedia. Abbiamo incontrato il regista e i protagonisti. Compagnia Sipario 21, salviamo il salvabile per la regia di Maurizio Nicastro. Si va in scena il 16 gennaio prossimo al Teatro Eschilo con quanta emozione. È un debutto questo? È un debutto per questa compagnia. Quindi c'è tanta tensione, tanta aspettativa. Tanti amici sono stati chiaramente coinvolti per cui cercheremo fino all'ultimo di provare, riprovare perché il dettaglio va curato e va curato bene. La storia? La storia Salviamo il salvabile parte da un misandisterni che c'è una cosa che non viene capita dal nipote di queste due zie ricche e quindi su questo si innescono tante situazioni che chiaramente con gag varie eccetera vengono fuori i vari personaggi che compongono la commedia perché ognuno di loro cercherà un obiettivo, di raggiungere un obiettivo. Maria Giornone, tra i soci fondatori di questa nuova associazione che si chiama Demetra, un nome molto importante, quali sono le vostre mission? Non ci siamo soffermati solamente sul teatro che comunque rimane l'amore per ognuno di noi ma abbiamo pensato ad un'associazione che potesse in qualche modo dare voce a tutte le espressività artistiche e culturali presenti nel nostro territorio. e sentiremo parlare in questa associazione di musica, spettacolo di vario genere, poesie, laboratori teatrali perché noi pensiamo che la cultura arricchisca il territorio e magari possa anche in qualche modo educare le coscienze proprio all'idea del bello. Proprio perché questa è un'associazione eclettica troviamo anche il nostro Croce a Tardi che è già noto alla nostra città per altre forme d'arte abbiamo organizzato delle importanti manifestazioni delle rassegne d'arte e adesso invece ci sperimentiamo in una nuova avventura che è il teatro con quale spirito? Siamo qui a fondare questa nuova associazione questa nuova compagnia proprio perché siamo convinti che Gela è una bellissima realtà e perciò deve essere sfruttata in tutte le sue sfaccettature siamo pronti per il debutto di giorno 16 aspettiamo la città che venga in massa al teatro perché sicuramente ne vedrete delle belle Torna stasera dopo la pausa natalizia Agora a partire dalle 21 sui teleschermi di Canale 10 riprende il ciclo di trasmissioni del rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra redazione ideato e condotto da Franco Gallo in studio ospiti che tratteranno argomenti che hanno riguardato Gela in queste settimane su tutti il caos politico tutto a tinte pentastellate con un sindaco sfiduciato dal Movimento 5 Stelle che lo ha fatto eleggere a furor di popolo quale primo cittadino gelese appena sei mesi fa il tutto mentre la pentola a pressione sociale continua a vedere alzare sensibilmente la sua pericolosa temperatura appuntamento dunque a questa sera con la prima puntata del 2016 di Agora Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare lo hanno comunicato e padri agostiniani avranno inizio oggi le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso patrono della città di Gela insieme a Maria Santissima dell'Alemanna secondo gli atti del processo conservato nell'archivio generale della Curia dei Carmelitani di Roma e dell'Arci Diocesi di Catania era il 27 marzo del 1602 quando il simulacro di stile bizantino portato dai marinai terranovesi dalla Magna Grecia iniziò a trasudare ininterrottamente sangue e acqua per cinque giorni davanti a migliaia di fedeli accorsi nella chiesa del Carmine diversi anni dopo l'11 gennaio del 1693 un tremendo terremoto distrusse gran parte della Sicilia e Gela allora Terra Nova fu risparmiata insieme ad alcuni paesi vicini in seguito a quest'avvenimento l'8 marzo di quello stesso anno il popolo gelese elesse patroni della città il Santissimo Crucifisso e Maria Santissima d'Alemanna per commemorare questa ricorrenza anche quest'anno come da tradizione si svolgerà il triduo di preparazione con il canto della coroncina e la celebrazione eucaristica il triduo sarà predicato da Don Antonino Rivoli vicario episcopale per la liturgia della Diocesi di Piazza Armerina e docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Sturzo sabato saranno presenti alla celebrazione i marinai che venerano il Santissimo Crucifisso come speciale protettore e domeniche cavalieri del Santo Sepolcro della sezione di Piazza Armerina lunedì 11 giorno della festa seguiranno le messe delle 6, delle 8 e delle 9 alle 10.30 il solenne pontificale presieduto dal vescovo Monsignor Rosario Gisana alle 12 la messa con il canto del Tedeum alle 15 l'adorazione della croce alle 17 alle 18.30 le altre celebrazioni liturgiche a conclusione i fuochi pirotecnici continueranno fino al 10 gennaio prossimo le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio presso il piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi albero della vita continuano gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela stasera andrà in scena Francesco Buzzurro venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 3455880580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015-Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro crocifisso Ragona domenica 10 gennaio prossimo alle 19 il recital del chitarrista Massimo Martinez Torna in campo già domani pomeriggio dopo aver sbancato l'altro ieri il campo di Castel Termini il Macchitella Gela che nel campionato di promozione anticiperà l'impegno agonistico valido per la seconda giornata del girone di ritorno il team bianco-rosso dell'allenatore e giocatore Mirko Fausciana riceverà la visita del fanalino di coda del torneo Comiso appuntamento alle 15 al Vincenzo Presti per un impegno che potrebbe permettere alla squadra del presidente Francesco Greco di continuare a scalare la classifica andandosi a posizionare in una zona molto più tranquilla anche perché sarà importante per Capitan Giovanni Cinici e compagni dare seguito alla bella vittoria esterna ottenuta proprio a Castel Termini alla riapertura delle attività agonistiche dopo la sosta di fine anno siamo allo spettacolo piccolo grande varietà e lo spettacolo con Tuccio Musumeci che andrà in scena al Teatro Eschilo di Gela sabato 9 gennaio alle 21.30 domenica 10 gennaio alle 17.30 il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580 siamo all'informazione cinematografica è uno per tutti il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela questi gli orari di rotazione della pellicola 17.30 19.30 21.30 con il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a Gela a Gela a Gela a Gela a Gela a Gela